l'opera che vedete qui è un dipinto autografo realizzato con tecnica a olio su terra nel 1916 misura 81 per 116 centimetri ed è custodito in una collezione privata a cleveland negli stati uniti pittore scultore e disegnatore modigliani fu attivo soprattutto a parigi dove realizzò anche quest'opera va sottolineato però che nonostante la carriera francese le radici del suo stile affondano in italia in effetti ammedeo studiò attentamente i maestri del rinascimento in particolare sandro botticelli ma i suoi nuti sdraiati come quello raffigurato in questo dipinto continuano la tradizione iniziata da giorgione tiziano di cui ricordiamo bene le veneri sdraiate nudi come questo sensuale e prorompente nel suo esplicito erotismo furono spesso censurati pensate che l'unica personale dedicata a modigliani quando era ancora in vita alla galleria berthe veil a parigi nel 1917 venne chiusata la polizia la causa fu proprio l'oscenità delle opere esposte la donna ritratta era una modella algerina al maiza ciò siamo riusciti a capirlo confrontando il dipinto con l'algerina al maiza seduta dove l'artista scrisse il nome direttamente sulla tela abitudine che ritroviamo spesso in modigliani la donna è morbidamente adagiata su un divano il corpo offerto alla vista del pubblico un braccio steso e l'altro piegato a sostenere il volto dalla chioma corvina la donna indossa solamente una collana i colori dominanti sono i toni del marrone terre e ocre che rendono quasi monocroma l'opera pittore e scultore ossessivo modigliani era un incallito del naiolo vittima della droga e dell'alcol archetipo del genio maledetto l'artista anche qui ci trasmette un senso d'erotismo bohemian che ci riporta subito alla frizzante vita parigina d'inizio novecento se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando e poi ci riporta subito a sostenere il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando